Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione svolgeremo alcuni esercizi di riepilogo sulle scomposizioni. Non illustreremo nel dettaglio i singoli metodi di scomposizione, piuttosto cercheremo di capire come ordinare opportunamente i termini dei polinomi per poi scomporli. Cominciamo dal primo. Abbiamo 3x-6y-x²-4y² più 4xy. Riconosciamo immediatamente, a meno del segno, 2 quadrati x² e 4y². Inoltre riconosciamo anche un doppio prodotto nelle variabili x e y che è il termine più 4xy. Questo ci suggerisce di mettere in evidenza nel trinomio meno x² meno 4y² più 4xy meno 1. Quindi si ha che il nostro polinomio è uguale a 3x-6y che restano così come sono. Meno 1 che mettiamo in evidenza che moltiplica x² più 4y², stiamo cambiando i segni, meno 4xy. Ovviamente potevamo sottintendere 1 davanti alle parentesi, ma abbiamo preferito scriverlo per evitare confusione. A questo punto si riconosce, in parentesi tonda, lo sviluppo del quadrato del quadrato di un binomio è precisamente del quadrato del binomio x meno 2y. Infatti, x meno 2y² è uguale ad x² più 4y² meno 4xy. Possiamo riscrivere il nostro polinomio nel seguente modo. 3x meno 6y. Qui è possibile mettere in evidenza 3 e si ha 3 che moltiplica x meno 2y meno 1 meno quindi x meno 2y elevato al quadrato. adesso è chiaramente possibile raccogliere nel nostro polinomio x meno 2y. Si ha che tutto è uguale a x meno 2y che stiamo raccogliendo che moltiplica 3, ricordiamo i raccoglimenti totali meno x meno 2y. Abbiamo quindi scomposto il nostro polinomio iniziale di secondo grado nel prodotto tra un binomio e un trinomio, entrambi di primo grado. Passiamo al prossimo esercizio. Abbiamo 1 più 6ax meno a² meno 9x². Anche qui riconosciamo facilmente a meno del segno due quadrati a² e 9x². Inoltre è facile individuare un doppio prodotto nelle variabili a e x nel termine più 6ax. Quindi, esattamente come prima, raccogliamo meno 1 per cambiare il segno di alcuni termini. Si ha che il nostro polinomio è uguale a il termine 1, che resta com'è, meno 1, che stiamo raccogliendo, che moltiplica, meno 6ax. Dobbiamo invertire il segno ai tre termini che compongono questo trinomio. Più a² più 9x². Adesso è facile osservare che, quanto appena scritto in parentesi tonda, proviene dallo sviluppo del quadrato di un binomio e, precisamente, dallo sviluppo del quadrato del binomio, 3x meno a. Infatti, 3x meno a² è uguale a 9x² più a² meno 6ax. Per questa ragione possiamo riscrivere il nostro polinomio nel seguente modo, e cioè come 1 meno 3x meno a elevato al quadrato. Quindi, il nostro polinomio iniziale è stato scritto come differenza tra 1 e un quadrato, ma 1 può anche essere scritto come 1 elevato al quadrato. Quindi tutto diventa 1 al quadrato meno 3x meno a elevato al quadrato. Abbiamo quindi una differenza tra due quadrati. Esta è facilmente scomponibile nel seguente modo, e cioè possiamo scrivere 1, che è la base del primo quadrato, più 3x meno a, che è la base del secondo. Tutto questo per 1 meno 3x meno a. Andiamo avanti e passiamo al prossimo esercizio. Abbiamo y al quadrato meno 3y più 2 più xy meno 2x. Riconosciamo quindi tra questi cinque termini un trinomio di secondo grado nella variabile y e due termini, più xy e meno 2x, che contengono entrambi la variabile x. Quindi, cominciamo a scomporre il trinomio y al quadrato meno 3y più 2, ricordando che dobbiamo determinare due numeri, la cui somma sia uguale a meno 3 e il cui prodotto sia uguale a più 2. Tali numeri sono meno 2 e meno 1. Quindi, la scomposizione di questo trinomio è la seguente, y meno 2, che moltiplica y meno 1. Dobbiamo adesso aggiungere più xy meno 2x, cui è possibile effettuare un raccoglimento parziale e mettere in evidenza la x. Si ha quindi più x, che raccogliamo, che moltiplica y meno 2. Possiamo a questo punto effettuare un raccoglimento totale e raccogliere y meno 2. Se ha che il nostro polinomio è uguale a y meno 2, che moltiplica y meno 1 più x. Andiamo avanti e passiamo all'ultimo esercizio. Abbiamo x al quadrato per b meno x al quadrato meno 4x più 12 meno 2bx. Osserviamo che c'è una relazione tra i termini x al quadrato b. E 2bx. Infatti, in entrambi compaiono le variabili x e b. Negli altri tre termini, invece, si riconosce facilmente un trinomio di secondo grado nella variabile x. Abbiamo meno x al quadrato meno 4x più 12. Possiamo scrivere quindi il nostro polinomio ordinando i termini nel seguente modo, e cioè come x al quadrato b meno 2bx meno x al quadrato meno 4x più 12. Adesso possiamo immaginare di effettuare un raccoglimento parziale sui primi due termini e successivamente di scomporre il trinomio di secondo grado nella variabile x. Si ha, pertanto, che il nostro polinomio è uguale a x per b, che raccogliamo, che moltiplica x meno 2, meno, raccogliamo meno 1 per far sì che il termine di secondo grado di questo polinomio sia preceduto dal segno più, quindi meno x al quadrato, cambiamo tutti i segni, più 4x meno 12. Dobbiamo adesso determinare due numeri la cui somma sia uguale a più 4 e il cui prodotto sia uguale a meno 12. Tali numeri sono più 6 e meno 2, quindi il nostro trinomio di secondo grado può essere scritto come x più 6 per x meno 2. Il nostro polinomio diventa x più 6 per x meno 2. A questo punto è possibile effettuare un raccoglimento totale raccogliendo x meno 2, sia che, in definitiva, il nostro polinomio è uguale a x meno 2, che stiamo raccogliendo, che moltiplica x per b meno x più 6. In questo modo la nostra scomposizione è terminata. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.